La cometa di Halley, Irene Grandi alle 7.58 ad accompagnarci dolcemente verso il giornale orario tra poco, ma prima abbiamo un appuntamento. Don Massi? Don Antonio ci sei? Buongiorno. Qualcuno ha febbre? Ho sentito che sei qualche malato? No, stiamo tutti bene a parte Pio che è Pio Ingegno in regia che non è proprio informissima. Questa mattina faccio il filosofo. È l'umanità intera che pensa dentro ogni singolo uomo. È l'umanità intera che pensa dentro ogni singolo uomo. E io ci credo. Ciao, ciao, ciao. Questa è bella. È l'umanità intera che pensa dentro ogni singolo uomo. È impegnativo. Però è bellissimo. Ed è filosofico. È filosofico ed è bello.